Siamo stati allevati, mio fratello ed io, da nostro zio, l'abate Loazel, il curato Loazel, come diciamo noi. I nostri genitori morirono quando eravamo molto piccoli. L'abate ci tenne con sé in canonica. Erano 18 anni che lui prestava le sue cure nella parrocchia di Jean Les Holt, vicino a Ivetot. Era un piccolo paese, situato nel bel mezzo dell'altopiano del Caô, seminato di fattorie che, qua e là, nei campi, innalzano i loro filari di alberi. Il comune, oltre ai casolari seminati nella pianura, non contava che sei case, posto lungo i due lati della strada maestra, con la chiesa ad un'estremità del paese e il nuovo municipio dall'altra parte. Abbiamo passato la nostra infanzia tutte e due, mio fratello e io, giocando in quel cimitero. Siccome era il riparo dal vento, mio zio impartiva là dentro le sue lezioni. Eravamo tutti e tre seduti sull'unica tomba di pietra, che poi era quella del curato che aveva preceduto nostro zio, la cui famiglia ricca lo aveva fatto serpellire con gran pompa. L'abate Loiselle, per tenere in esercizio la nostra memoria, ci faceva imparare a mente i nomi dei morti, segnati sulle croci di legno nero. E per provare di quanto spirito di osservazione fossimo capaci, ci faceva recitare quello strano elenco, cominciando ora da una parte del cimitero, ora dall'altra parte, ora dal mezzo. Quindi, indicando all'improvviso una sepoltura, diceva, vediamo quella della terza fila, quella con la croce che pende sulla sinistra. Quando seppellivano qualcuno, cercavamo subito di conoscere il nome che avrebbero scritto sul simbolo di legno. Così andavamo a casa del falegname, per leggere l'epitaffio prima che fosse posto sulla tomba. Mio zio chiedeva, sapete il nuovo nome? Rispondevamo tutti e due insieme, sì, zio. E subito ci mettevamo a borbottare. Qui riposa Joséphine, Rosalie, Gertrude Marudin, vedova di Theodore Magoulard César, morta all'età di 62 anni, rimpiante dalla famiglia, persona integerrima, buona sposa e buona madre. La sua anima riposa nella gloria del Signore. Mio zio era un gran prete, ossuto, quadrato di re e di corpo. Anche la sua anima pareva dura e precisa come una risposta del catechismo. Ci parlava spesso di Dio con voce tonante. Pronunciava quella parola come se avesse tirato un colpo di pistola. Il suo Dio, d'altra parte, non era il buon Dio, ma Dio. Doveva pensare a lui come un malfattore pensa a un gendarme o come un accusato pensa a un giudice istruttore. Ci allevò rudemente tutti e due, insegnandoci più a tremare che ad amare. Quando avemmo uno quindici e uno quattordici anni, ci mandò in un collegio a un prezzo speciale all'istituto ecclesiastico di Vto. Era un grande edificio, triste, popolato di preti e di allievi quasi tutti destinati al sacerdozio. Non posso pensare a quell'edificio, neppure oggi, senza sentirmi prendere da un brivido di tristezza. Si sentiva odore di preghiere là dentro, come al mercato si sente puzzo di pesce nelle giornate di pesca abbondante. Era molto triste quel collegio, con le sue eterne funzioni religiose, le sue messe fredde di tutte le mattine, le meditazioni, le recitazioni del Vangelo, le letture pie durante i pasti. Com'è lontano e triste il tempo trascorso tra quelle mura claustrali dove non si sentiva parlare altro che di Dio, quel Dio che mio zio sparava come un colpo di pistola. Vivevamo là dentro praticando una misera pietà, ruminante, forzata e anche in una sporcizia veramente meritoria. Rammento che facevano lavare i piedi ai ragazzi soltanto tre volte l'anno, quando stavano per cominciare le vacanze. I bagni li ignoravamo nella maniera più assoluta, li ignoravamo come il nome di Victor Hugo. I nostri maestri li dovevano tenere in gran disprezzo. Ne uscii con la maturità lo stesso anno di mio fratello e, con qualche soldo, ci svegliammo tutte e due una bella mattina a Parigi, impiegati a 1800 franchi nell'amministrazione pubblica, grazie alla protezione del vescovo di Rouen. Per un po' di tempo ci comportammo da bravi ragazzi, tutti e due, mio fratello ed io. Vivevamo in un piccolo appartamento in affitto, come uccelli notturni tirati fuori dal loro buco e gettati nel sole, storditi e smarriti. Ma poco a poco l'aria di Parigi, i compagni, gli spettacoli ci resero un po' meno goffi. Decideri nuovi e stranei alle gioie celesti presero a penetrarci e, alla fine, una bella sera. La stessa sera, dopo lunghe citazioni, grandi inquietudini e paure tal quali quelle di soldati al primo scontro, ci siamo lasciati, come dire, ci siamo lasciati sedurre da due vicine, due amiche impiegate nella stessa bottega che abitavano nello stesso edificio. Ora accade ben presto uno scambio tra i due alloggi, una spartizione. Mio fratello prese l'appartamento delle ragazze e con l'appartamento prese anche una di loro. Io presi l'altra che venne ad abitare con me. La mia si chiamava Louise, aveva sieno 22 anni. Era una brava ragazza, fresca, gaia, rotonda dappertutto, specialmente in certe parti. Si accomodò in casa mia come se fosse una mogliettina che prende possesso di un uomo e di tutto ciò che ad esso appartiene. Fece tutto lei, si occupò della cucina, cercò di far bilanciare le spese con l'economia e mi procurò anche molti piaceri nuovi per me. Da parte sua mio fratello era molto contento. Pranzavamo tutti e quattro insieme, un giorno dall'uno, un giorno dall'altro, senza che la minima nube né la minima preoccupazione ci turbasse. Di tanto in tanto ricevevo una bella lettera da mio zio, il quale credeva che alloggiassi sempre con mio fratello. Mi dava notizie del paese, della serva, dei morti più recenti, della terra, del raccolto, mescolandole a molti consigli circa i pericoli della vita e le turpitudini del mondo. Queste lettere arrivavano la mattina con la posta delle otto. Il portiere le faceva scivolare sotto la porta dando un colpo di scopa nel muro per avvertirmi. Louise si alzava, andava a raccogliere la busta di carta azzurra e si sedeva sul bordo del letto per leggermi le epistole del curato Loazel, come essa diceva. Per sei mesi fummo felici. Una notte, verso luna, una violenta scampanellata ci fece sobbalzare nello stesso momento. Perché non dormivamo, anzi tutt'altro, in quel momento? Louise disse. Che cosa può essere? Risposi. Non so proprio. Sicuramente qualcuno ha sbagliato piano. Non ci muovemmo, nonostante che... Insomma, rimanevamo stretti l'una all'altra, allungando gli orecchi, i nervi tesi. All'improvviso un secondo colpo di campanello, poi un terzo, poi un quarto, riempirono di chiasso l'appartamento e ci fecero saltare a sedere sul letto. Non c'è dubbio, volevano proprio noi. Mi infilai svelto i pantaloni, quindi le pantofole, e corsi alla porta d'ingresso, temendo una disgrazia. Ma prima d'aprire chiesi. Chi è? Chi cercate? Una voce, una gran voce. Quella di mio zio, rispose. Sono io, Jean. Apri, svelto. Apri, presto, pezzo di mascalzone. Non ho nessuna voglia di dormire per le scale. Mi sentì impazzire. Che fare? Corsi in camera e ansimante dissi a Louise. È mio zio, nasconditi. Poi tornai, aprì la porta di fuori, e il curato Lasell per poco non mi rovescia per terra con la sua valigia di panno. Gridò. Che cosa stavi facendo, birbaccione, per non venire ad aprirmi? Risposi balbettando. Dormivo, zio caro. Egli rispose. Dormivi, va bene. Ma poi, quando mi hai parlato di là, di dietro la porta. Balbettai. Avevo dimenticato la chiave nella tasca dei calzoni, caro zio. Poi, per evitare altre spiegazioni, gli saltai al collo e lo baciai con trasporto. Si raddolcì e si spiegò. Eccomi qua. Rimarrò quattro giorni, caro il mio furfante. Voglio dare un'occhiata a questo inferno di Parigi, per farmi un'idea di quell'altro inferno. E si mise a ridere di un riso che pareva una tempesta. Poi ricominciò. Mettimi pure dove vuoi. Prenderemo un materasso dal tuo letto. Ma dov'è tuo fratello? Dorme? Dai, sveglialo! Avevo perduto la testa. Alla fine mormorai. Jacques non è tornato a casa. Ha avuto da fare un grosso lavoro in più questa notte. Sai, all'ufficio. Mio zio, senza alcun sospetto, si stropicciò le mani e domandò. Allora vanno bene le cose? E si dirigeva verso la porta della camera. Qui gli saltai al collo. No, zio, di qua. Mi era venuta un'idea luminosa. Aggiunsi. Dovete aver fame dopo questo viaggio. Venite a mangiare un boccone. Lo zio sorrise. Già, è proprio vero. Ho fame. Farei molto volentieri uno spuntino. Lo spinsi nella sala da pranzo. Proprio quel giorno avevamo pranzato a casa nostra. La credenza era ben fornita. Mi tirai fuori da principio un pezzo di carne stufato che il prete addentò gagliardamente. Lo incitavo a mangiare. Gli versavo da bere e lui ricordava via via buoni pranzi normanni per rendere più vivo l'appetito. Quando ebbe finito spinse il piatto lontano da sé dicendomi. Ecco fatto. Ora sì che mi sento bene. Ma io avevo ancora qualche riserva. Conoscevo il debole di quel bravuomo. Così gli portai un pasticcio di pollo, un'insalata di patate, una tazza di crema e un po' di buon vino avanzato. Fu lì per cadere all'indietro. Gridò. Che bella dispensa fornita, ragazzo mio? Riprese il piatto avvicinandosi alla tavola. La notte avanzava e lui continuava a mangiare. Io intanto pensavo al modo di tirarmi fuori dai pasticci, ma non riuscivo a trovarne uno decente. Finalmente lo zio si alzò. Stetti per svenire. Cercai di trattenerlo ancora un po'. Via zio, beviti un bicchiere d'acqua vita. È di quella vecchia, di quella buona. Ma lui disse. Ora no, no, no davvero. Mi sento a posto. Voglio vedere la tua casa. Non si poteva resistere a mio zio, lo sapevo. Lunghi brividi mi correvano giù per la schiena. Che cosa stava per accadere? Immaginavo già la scena. Che scandalo, che dramma sarebbe accaduto. Lo seguivo con una voglia matta di aprire la finestra e di precipitarmi giù nella strada. Lo seguivo stupidamente, senza osare pronunciare verbo per trattenerlo. Lo seguivo, e intanto mi sentivo perduto, sul punto di venir meno per l'angoscia. E tuttavia speravo ancora in non so che cosa. Entrò in camera. Un'ultima speranza mi fece sobbalzare il cuore in petto. Quella brava ragazza aveva chiuso le tendine del letto. Non un solo indumento femminile si vedeva intorno. Vestiti, camicette, polsini, calze, scarpette, guanti, una spilla e gli anelli. Tutto era scomparso. Balbettai. Non andiamo a letto, zio. Ormai è quasi giorno. Il curato la sé rispose. Tu fai pure quello che vuoi. Ma io dormirò, e bene, per un'ora o due. Si avvicinò al letto con la candela in mano. Aspettavo, ansimavo, mi sentivo perduto. Improvvisamente aprì le tendine. Faceva caldo. Era giugno. Avevamo tolto le coperte, lasciando sul letto solo il lenzuolo, che Louise, presa dalla paura, si era tirata fin sopra il capo. Per nascondersi meglio. Si era ciambellata e si vedeva. Si vedevano i suoi contorni incollati contro l'attesa del lenzuolo. Stavo per svenire. Lo zio si voltò verso di me, ridendo con una bocca che gli arrivava agli orecchi, sicché rimasi interdetto per lo stupore. Gridò. Che buffone! Non hai voluto svegliare tuo fratello. E allora, guarda, ora lo sveglio io. Vidi la sua mano, la sua grossa mano da contadino che si alzava. E mentre gli scoppiava dal ridere, quella mano andò a cadere con un tonfo formidabile su quelle rotondità che aveva l'avanti. Dal letto venne un grido terribile. Poi si scatenò una furiosa tempesta sotto il lenzuolo. Quella si agitava, si agitava, si muoveva, si aggrovigliava. Non poteva più di stricarsi, perché si era tutta annodata là dentro. Alla fine apparve una gamba da una parte, poi un braccio da un'altra, poi la testa, poi tutto il petto, nudo e ansimante. E Louise, furiosa, sedette, guardandoci con un paio d'occhi accesi come lanterne. Mio zio, improvvisamente muto, si allontanò rinculando, con la bocca aperta come se avesse visto il diavolo, soffiando come un bue. Giudicai la situazione piuttosto grave per prenderla di petto. E allora fuggii, disperato. Tornai soltanto due giorni dopo. Louise se n'era andata lasciando la chiave al portiere. Io non l'ho più rivista. Quanto a mio zio, egli mi ha diseredato a favore di mio fratello, il quale, avvertito dalla mia amante, ha giurato che egli sarà separato da me in seguito ai miei stravizi, dei quali non si sentiva di essere testimone. Non mi sposerò mai. Le donne sono troppo pericolose.